Suggerito da Zofud Albano e Aricia Pablo Neruda ode al pane Del mare e della terra faremo pane, coltiveremo a grano la terra e i pianeti. Il pane di ogni bocca, di ogni uomo, ogni giorno arriverà perché andammo a seminarlo e a produrlo. Non per un uomo, ma per tutti. Il pane, il pane per tutti i popoli. E con esso ciò che a forma e sapore di pane divideremo la terra, la bellezza, l'amore. Tutto questo a sapore di pane. Grazie. Grazie. Grazie.